Questa mattina do Iastro Cilento a dare il buongiorno è una lieta notizia che tutta la comunità stava aspettando da qualche giorno la nascita del piccolo Daniel. Sulla pagina Facebook del comune scrivono ci sono notizie che riscaldano il cuore e che permettono di sperare ancora non ostante tutto ed è per questo che con immensa gioia ed emozione il sindaco Paolo Astone, l'amministrazione comunale e il parroco Don Damiano annunciano la nascita del piccolo Daniel, il figlio di Julia, la giovane donna ucraina scappata dalla guerra ed accolta nel nostro comune. La mamma e il bambino stanno bene e sono affidati alle cure dei sanitari dell'Istituto Clinico Mediterraneo, ex Clinica Malzoni, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per l'assistenza e la disponibilità dimostrata. Questo bambino è per tutti simbolo di accoglienza, rinascita e amore che vince su tutto. Al piccolo Daniel, alla mamma Julia e alla papà che purtroppo è rimasto in Ucraina, i nostri più affettosi auguri per un futuro sereno ma soprattutto di pace. I cittadini di Oiastro hanno dimostrato tutta la loro solidarietà per questa giovane mamma e il suo bambino ancora prima di nascere e continueranno a farlo, con la speranza che il papà possa conoscere al più presto il suo piccolo e possa mostrargli un mondo migliore. Diamo il benvenuto a Daniel.